Giorno 19 agosto, sono appena uscita dalla lounge, sono le 5.40 del mattino, vado a fare il check in. Supponiamo che siate in un aeroporto, da soli, avete un sonno che proprio avete quegli scatti tipo, ma dovete stare svegli. Come si fa? Come si fa in questi casi? Non vedo l'ora di essere in aereo, deve passare solo mezz'ora, ho preso un green tea, perché il caffè non ho voglia. Come si fa in questi casi? Allora faccio finito di parlare con voi perché non ho proprio la forza. Oggi sto andando a Vijaya vada e arriverò alla Chiara in Cerno e sarà molto bello per me. Unica cosa, non vorrei avere tutto questo sonno, ma questo volo era talmente presto che it was impossible not to have it now. a dire il vero ho trovato un modo, mandare messaggi vocali a tutti e poi a head full of dreams, dei Coldplay, a palla. Però va un pelo meglio. Però sto contando i minuti, c'è un orologio lì e... Aspetta che volevo capire l'annuncio. Mi dovrò di essere in aereo per dormire. Dormire, dormire, dormire. Devo dormire. Ok, sono le 7.32. Ce l'ho fatta. Quasi. Sto andando a prendere l'aereo. Devo dormire. Spero non sia uno di quegli aerei a eliche. Perché veramente non ce la si può fare, sennò... Ok, ci siamo. Sono esattamente nello stesso posto da cui sono partita otto anni fa per andare a Vijaya in Vada. E diciamo che questa botta emozionale mi ha svegliata subito e quindi si va. Sperare davvero non fosse quello con le eliche e invece... Let's go! Ci siamo! Ci siamo! Ho termito tutto il viaggio. Non ho sentito niente, niente del viaggio. Siamo a Vijaya Vada. Vi giuro che c'è questa musica, ve lo giuro. Sto sognando. Sto sognando. Sto sognando. Allora, sono arrivata a Vijaya Vada. Stanno danzando. Ci sono fiori dappertutto, la musica e la mia valigia era la prima. Parliamone. Ok, aspettavo questo momento da una cosa come tre anni, ma hanno cambiato. Tutto qua, sì. Guardate questo testo. Allora, ci siamo quasi. Sono appena arrivata. Questi sono i fiori. E guardate che meraviglie ci sono qui. La Sukane e la Mary. E siamo qui. Fa molto caldo, però ce l'abbiamo fatta. Ci siamo, siamo arrivati. E stiamo andando a Daddy's Home. E siamo molto felici, molto, molto felici. Allora, andiamo! Ok, non ci posso credere. Ciao Mary. Ciao Mary, how are you? I'm fine. You're fine? Yes. So we are going to where? Daddy? Daddy's Home. Very good. We will see you there. Bye! Bye! Ok, stiamo arrivando. We are arriving in Daddy's Home. We are arriving. Stiamo arrivando a Daddy's Home.